Sì, dicevamo Giuliano Razzoli, nella tua commozione c'è un po' il succo di una vita sportiva che hai vissuto anche ai massimi livelli, poi per un po' ti abbiamo perso dai radar e poi è bello ritrovarti qui davanti al tuo pubblico. Ma sai, sono emozioni uniche queste, io ho avuto una bellissima carriera, però ho avuto anche tanti infortuni e tanti intoppi che non mi hanno permesso di essere costante come avrei voluto, ma adesso sono qua a godermi questo quinto posto, a condividerlo con tutti voi che avete creduto un mio ritorno, che mi avete sempre attifato con tanto affetto e quindi questo non sarà un podio, non è una vittoria ma vale tanto. E a te quanto è mancato tutto questo, il sapere di potersela giocare con i migliori? Beh, mancato tanto ma semplicemente perché quando mi sono fatto male ero nel momento migliore della mia carriera e quindi secondo me ho lasciato per strada veramente vittorie e podi e quello quindi dispiace, però forse non mi sarei così goduto una giornata del genere e non avrei condiviso con tutti voi questa felicità e quindi cosa posso dire, credete tutti in voi stessi. Grazie, grazie Giuliano Razzoli, noi siamo in chiusura.